Bella saluta, ci hanno parlato? Grazie a tutti. Sì, scusi un attimo perché qui è successo. Buonasera a tutti, sono Maria Antonietta Di Nato, Presidente dell'Associazione. Buonasera a tutti, sono Maria Antonietta Di Nato, Presidente dell'Associazione Mamme per la Salute e l'Ambiente Homo Stile Nato. A nome di tutta l'Associazione voglio ringraziare innanzitutto l'organizzazione per averci dato l'opportunità di testimoniare la nostra esperienza. Grazie a tutti. 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 Informandoci, arriviamo poi a conoscenza di studi nazionali ed internazionali che attestavano una forte incidenza di gravi patologie nei territori interessati nella presenza di impianti altamente impattanti, quali gli inceneritori e i cementifici. La nostra, una terra inizialmente bellissima e incontaminata, possa però ora all'aver cedito una pseudo-industrializzazione che non ha portato a alcun incremento nei posti di lavoro, però ha impattato fortemente sul nostro ambiente. Siamo partite da una constatazione di dati oggettivi presenti sul nostro territorio, tra i quali l'aumento di patologie e la presenza delle varie fonti inquinanti, elementi che ci hanno fatto pensare a una correlazione tra queste patologie e tutti gli impianti che sono l'inquinamento prodotto da questi impianti sul nostro territorio. Approponendo meglio le ricerche su questi temi, si è compreso subito che il problema che c'è è molto difficile da affrontare ed anche pericoloso, perché non è un problema di facile ed immediata soluzione, soprattutto per semplici mamme come noi. Avevamo capito che contrastare l'inquinamento atmosfettico prodotto dalle industrie si scontra con tutti i grandi poteri forti e poteri che sono economici, che sono molto forti, pertanto è necessario tanto coraggio e tanta determinazione per affrontare e bisogna valutare la problematica ed analizzare bene quali sono questi dati che vanno a impattare su questo territorio. La politica regionale, ma anche da quella nazionale, ci siamo accorti che questa politica favorisce queste attività. All'inizio forse si erano completamente ignali di tutti i risvolti sanitari che si sarebbero avuti sulla popolazione, ma soprattutto notiamo che il principio di precauzione è stato assolutamente inatteso e anche la prevenzione primaria. A questo punto dovevamo fare qualcosa, o ignorare il problema o in qualche modo affrontarlo con determinazione. Abbiamo deciso di affrontare questo problema, iniziando a chiedere l'aiuto ad associazioni e gli esperti che già da anni si dibattevano e lottavano su queste problematiche. Abbiamo conosciuto in questo cammino persone forti e preparate, intellettualmente oneste, che ci hanno incoraggiate e sostenute nel proseguire questo nostro cammino e questo nostro lavoro per raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti. Nel dicembre 2010, per continuare a meglio il lavoro che abbiamo iniziato, abbiamo deciso di costituirci in un'associazione Ombus. Durante questi anni abbiamo superato ostacoli piccoli e grandi e tra gli altri anche una denuncia penale per diffamazione a mezzo stampa. La perseveranza però ci ha premiato. Oggi nel territorio dove operiamo il problema dell'inquinamento è sentito da tutti. Dopo tutto il tempo che abbiamo speso a far capire questo problema, abbiamo visto che adesso molti sono pronti a dare il loro contributo attivo e in una valle, in cui noi siamo circa 20.000 abitanti, nel 14 gennaio del 2017 sono riusciti a scendere in piazza ben 5.000 persone. Il processo di ricerca e informazione è durato diversi anni per l'ostruzionismo degli enti e della politica. Però possiamo dire che dall'inizio fino ad oggi è stato fatto molto lavoro. Abbiamo racconto dati documentati, la poca attenzione per la tutela della salute pubblica dei cittadini e fatto analizzare anche molte matrici alimentari, tra cui anche il latte materno di una mamma e i risultati non ci fanno assolutamente stare tranquilli. Abbiamo presentato anche denuncia alla comunità europea per l'inmerito alla mancanza di aria e l'incendentore in Ergonat, oggi era ambiente, e presentato esposti alla procura di sede, abbiamo impugnato anche il piano rifiuti e partecipato ai progettamenti aria dell'incendentore all'ambiente e del cementificio Gola, che sono i due elementi più importanti che sono presenti nel nostro territorio. Questo lavoro, dobbiamo dire ancora una volta grazie, al grande aiuto che ci ha dato Medicina Democratica. Per diffondere meglio il nostro lavoro, nel 2011 abbiamo aperto il nostro sito web mammesaluteambiente.it e questo è fondamentale, perché la nostra voce possa essere libera e nostro mentalizzabile. Oltre alle attività necessarie per far capire in tutte le criticità ambientali e contrastarle dove possibile, con denunce, esposte, osservazioni, abbiamo pensato anche di affrontare il problema con ottiche diverse, cercando di utilizzare ogni forma di informazione per far capire e denunciare il problema. Tra questi, da tutte le cose che abbiamo fatto, in particolare c'è la stessura di questo piccolo libricino favolenta che si intitola Il mondo da salvare. Questo è stato disegnato dai bambini delle scuole di Venato e di Sesto Campano e il lavoro poi è stato portato avanti anche alle associazioni aderenti a una campagna di difesa del latte materno. Abbiamo organizzato vari incontri, tra cui quello con padre Alex Zantelli e questo è stato organizzato qualche anno fa presso il liceo di Renato. Abbiamo fatto un incontro sull'inquinamento del latte materno con la dottoressa Patrizia Gentilini e dell'ISD, i medici per l'ambiente e anche su ambiente, salute, economia e correlazioni con il convegno patrocinato dai sei comuni della valle e dalla provincia dei medici e dalla provincia di Zegna e dall'ordine dei medici nella visita della provincia di Zegna. Anche un altro convegno è stato fatto sui conflitti ambientali presenti sul nostro territorio e sul perché abbiamo impugnato il piano rifiuti e questo com'arica di piede e l'avvocato Carmela Odiemma. Abbiamo realizzato con degli apidi, con del materiale di rifiuto e le ragazze della nostra associazione hanno indossato, presentandoli a Terra Futura, a Firenze che sono state, diciamo, testimoni della campagna nazionale di difesa dell'alte materno dei contaminanti ambientali e una loro maxifoto è stata proiettata al summit della terra a Rio de Janeiro. Abbiamo pensato anche di essere presenti nelle scuole con un progetto sulla raccolta differenziata. i bambini hanno preparato dei lavoretti utilizzando dei materiali che sarebbero stati buttati. Il gioco qual è stato? È stato quello di non comprare nulla ma utilizzare scatole, bottiglie, barattoli e altro giocando mutanto con la fantasia e spronando anche i genitori a collaborare con loro in questo gioco. Siamo tutti presenti ogni 8 dicembre su un combattimento del riciclo di uso e risparmio. E qui recuperiamo recuperando nuova vita e vecchi oggetti o realizzando lavoretti tipo case della pepana o altri tipi di lavoretti con avanzi di stoffe, di filo e quant'altro, diciamo, troviamo. Ogni attività è stata fatta per evidenziare il problema dell'eliminamento e anche per spronare le persone a non essere indifferenti e a partecipare al tentativo di proteggere la salute e il nostro ambiente. Ne ringraziamo anche per l'attenzione rivolgo ancora una volta un sentito grazie a Medicina Democratica perché questa è un'associazione che non è presente soltanto nei bordi di lavoro ma anche nei territori che vivono come il nostro delle criticità a causa delle attività industriali guinanti e sono comunque a fianco dei cittadini che cercano di difendere il loro territorio. Grazie. Allora, libertà Anna Grimanti e insomma il Comitato di Eppoli ci aveva chiesto di avere un problema di freno quindi se magari parliamo un po' l'ordine se possono intervenire loro e poi seguire Don Paz Colombis Ragione Marcello Siga e così via e così via Sì però non so se ci stanno tutti con la prossima partita perché si può intervenire Sì un attimo perché qui abbiamo un problema conciano sopra una volta che le hai fatto partire sempre a lui non batte sull'arco però con la loro avanti lo so allora quando con verso con verso se la fai partire con la presentazione si può partire con la presentazione Sì sì infatti sto cercando Buonasera io parlo a nome di questo piccolo gruppo di cittadini che si è organizzata a Evoli contro l'Amianto quindi porto questa piccola testimonianza noi ci interessiamo di Ammianto non come siti di lavorazione di questo prodotto ma per il cemento Ammianto presente sui tetti dei condomini sui palazzi e sulle coperture dei capannoni sia piccoli che industriali e abbiamo cominciato abbiamo cominciato abbiamo cominciato a interessarci di questo problema perché proprio al centro della nostra città che appesenta una grossa mole di materiale di cemento di ammi di Edelwith su una fabbrica in Esuso che era proprio al centro della città e dove c'erano i vigili urbani e ci stanno ancora oggi i vigili urbani in questa ex fabbrica e dove c'era il piazzale c'erano i pulmini gli scuola più parcheggiati oltre agli ex lavoratori di questa fabbrica che sono morti per patologie spesso correnate sono morti si sono ammalati di patologie tumorali Adriano scusa se me ha avanti si sono ammalati di patologie tumorali anche tanti dei vigili urbani che lavoravano tanti di loro sono morti quelli che lavoravano in questa sede di lavoro noi eravamo preoccupati perciò abbiamo cominciato a occuparci di abilanto eravamo preoccupati di questo e ci siamo rivolte ad Asuna e Comune non ci hanno dato molto ascolto molto avretta perché secondo loro non c'erano tantissimi tanti morti di mesoterioma ci sono morti di tumore ma non di mesoterioma noi invece eravamo preoccupati dicevamo per il principio di precauzione questo materiale andrebbe tolto in ogni caso e poi eravamo preoccupati perché come ci spiegavano gli amici di medicina di Lucanica i cancerogini tra loro hanno un effetto sempre sinergico moltiplicativo per cui dicevamo se queste persone sono morte tanti di loro una percentuale altissima di vigili urbani sono morte per patologie tumorali sicuramente queste fibre di amianto presenti nel posto di lavoro dove loro stavano tante ore al giorno possono aver provocato tumori in altre serie che non siano i colmumi oppure hanno potuto potenziare altri cancerogini che potevano essere presenti in quel luogo o altre cause e quindi fungendo da potenziatore ed eravamo convinti che andasse tolto questo materiale ci hanno detto che facevano allarmismo e abbiamo però continuato a insistere abbiamo portato fotografie nelle strade abbiamo contattato i giornali locali insomma ci siamo fatti sentire e alla fine è stato rimosso poi ci siamo apporti che di amianto però in città ce n'era una mole enorme ce n'era tantissime proprio di fronte all'ex su questa fabbrica che è al centro del paese c'era tutto un parco fatto da palazzine e da capannuli con tanto ce n'era di un altro deteriorato sui detti e quindi abbiamo cominciato a interessarci di tutta la zona e davanti abbiamo ecco qua i particolari e siamo abbiamo visto che già nel 1991 in altri posti in Italia in Milano questo è uno studio pubblicato da una rivista vicina del lavoro diceva già nel 1991 che c'era questo studio che dimostrava che fenomeni complessivi iniziano dopo pochi mesi dall'installazione di questo materiale sono evidenti dopo alcuni anni e sono imponenti tra i 5 e i 10 anni allora ci dicevamo come è possibile che i tempi che sono presenti in città da noi perché il problema non è rievole ovviamente il problema che c'è su tutto il territorio nazionale e ad ecolo come su tutto il territorio nazionale nessuna istituzione fa rispettare le leggi che pure esistono e che dicono che l'amianto va monitorato e va rimosso nel momento in cui diventa pericoloso e quindi noi dicevamo come è possibile se questi studi già nel 91 dicevano che dentro queste rietate l'amianto diventa pericoloso com'è che i nostri detti che stanno là nella nostra zona sia utilizzati soprattutto negli anni 70 com'è possibile che quei detti che sono stati là nessuno ha mai fatto manutenzione sono ancora dichiarati in buono state e quindi possono ancora restare e allora dicevamo che siamo diventati cacciatori di detti abbiamo iniziato a fotografare tutti i detti le coperture in cemento amianto e abbiamo fotografato tetto per tetto palazzo per palazzo abbiamo preso indirizzo in numero civico abbiamo fatto un archivio di più di 150 detti e abbiamo mandato questi quasi che non ci interesseranno soprattutto delle zone che noi chiamiamo i ristretti all'amianto dove c'è una maggiore concentrazione le strade con maggiore concentrazione i quartieri con maggiore concentrazione di detti in amianto e li abbiamo segnalati alla AS al comune al dipartimento di prevenzione all'unione operativa prevenzione collettiva che sta proprio ad Eppoli ai NOE di Napoli e Salerno all'ARPAC di Napoli e Salerno muti nessuno ci ha preso in considerazione e abbiamo continuato a fare questo lavoro di documentazione ecco qua sono i posti con la presenza maggiore di amianto l'abbiamo fatto sia al centro della città sia nelle periferie dove sono presenti questo non è lontano tutte queste foto la maggior parte le prime foto che abbiamo fatte erano tutte intorno a questa vecchia fabbrica abbandonata quindi di amianto ce ne era proprio tanto e qua c'è un parco giochi proprio vicino ad altri capannoni ricoperti di amianto in queste condizioni e questa è una zona vicino allo stadio dove la gente va a fare i footing dove i cori e tanta gente sia di mattina che di sera va a cuore e respira tutto quello che c'è qua abbiamo fatto quindi dicevamo un elenco palazzo del palazzo un indirizzo numero civico però il problema era sottovalutato perché si diceva no non ci sono tanti casi di vesperioma nonostante proprio il ministero della salute con il piano nazionale di amianto pubblicato nel 2010 potesse già l'attenzione solo fatto che la localizzazione di vari tumori contro l'arri di amianto legati a amianto fossero anche altre non solo i polmumi il colon la varice il peritoneo uguale quindi erano tante e noi e da questo già si capiva che quindi la fonte primaria di introduzione interna del corpo dell'amianto non fosse solo quella dell'apparato respiratorio ma anche quello per ingestione e cosa confermata anche da l'OIAV e tanti oggi oncologi e patologi alimentari ci parlano del fatto che anche la ingestione è pericolosa e la localizzazione di altri organi proprio dovuta all'ingestione tant'è vero che proprio sul salvagente di questo mese c'è un articolo che dice quei rischi sottovalutati del amianto nascosto nelle tubature italiane quindi pone l'attenzione l'accento anche sull'ingestione e riporta lo studio fatto dall'università di Bologna dove parla proprio di altre localizzazioni diverse dai polmumi quindi a questo punto noi abbiamo pensato ma se è importante anche l'ingestione i capannoni che noi abbiamo individuato nelle zone dove si fanno coltivazioni dobbiamo preoccuparci ancora di più oltre che i tempi e per esempio abbiamo cominciato a lavorare su un pollaio che tiene sette enormi capannoni tutti in amianto in Ethernet dentro ci stanno cucine e galline allevate che quasi producono uova e oltre a questo ecco qua i pollaio di tutti i capannoni sono enormi quei capannoni che stanno in fondo e poi abbiamo posto l'attenzione su quest'altro sito sono otto capannoni enormi vicino Santa Cecilia che è un enorme e un grosso quartiere dove sono stati anche i dottori Paolo e Stagno Loria e a Firro e ci stanno questi capannoni che si trovano in una zona innanzitutto a 500 metri dal centro abitato e in una zona molto coltivata la coltivazione dove ci sta la produzione della piana del Sile se vedete i capannoni finiscono proprio a filo con i terreni che quasi per tutto l'anno sono coltivati se per il terreno ci stanno altri terreni questi capannoni noi su questo abbiamo lavorato molto fino al 2013 stiamo ancora lavorando perché questo bene questa proprietà dove ci sono in assoluto vicino al centro abitato ma perché ci ha tirato l'attenzione perché si coltivano proprio a filo guardate i carciofi a filo con i capannoni ricoperti di endpernit che sono completamente in disfacimento polarizzati e questa è una zona la piana del Sile molto battuta dal vento quindi queste particelle vanno in giro se ti fermi un attimo su testa vanno in giro per tutta la piana e noi abbiamo parlato con il parco del quartiere che ci confermava l'aumento enorme di casi di tumore in questa zona quindi ci ha molto molto preoccupato e abbiamo lavorato siamo arrivati fin anche a dover denunciare a gennaio 2017 per reale ambientale il comune e l'agenzia per i beni confiscati alla camorra perché questo terreno è di proprietà è in uso all'agenzia per i beni confiscati alla camorra e si tratta di 15.000 metri quadri di ethernet polarizzati per cui ci preoccupa molto finalmente l'anno scorso a marzo è stata finanziata la progettazione per la rimozione e la bonifica del sito e il comune e l'area del BSC hanno pubblicato articoli hanno fatto pubblicare articoli sui giornali dove hanno detto che avevano trovato 500.000 euro per finanziare la bonifica è passato un anno adesso tutto è fermo perché parlo e la prefettura debba dare il parere i pareri antimafia sulla ditta che si sarebbe a giudicare i lavori noi però temiamo passato un anno e ancora non si fa niente per cui stiamo facendo pressione mettere aperte al prefetto al sindaco perché vorremmo smuovere questa situazione non vorremmo che fosse una bufala che ci hanno preso in giro dicendo che c'erano questi 5.000 euro e quindi stiamo ancora lavorando molto su questo sito appena riusciremo veramente appena partiranno i lavori inviteremo tutti voi a partecipare a una grande festa che vogliamo organizzare nel quartiere qui vi dicevamo quali sono state le attività di questo piccolissimo che siamo proprio minuscolo come gruppo di attività abbiamo fatto una prima mappa dei siti in cui è presente Amianto e sia della centro città sia della periferia la diapositiva successiva e l'abbiamo fornita al comune all'asola a tutti quanti a tutte le istituzioni quindi l'abbiamo fatta noi dal basso una mappatura dei siti con dei vendiamanti quello che è previsto dalla legge e che non facevano le istituzioni abbiamo cercato di farlo con i pochi mezzi di un piccolo gruppo quindi abbiamo fatto incontri nei quartieri abbiamo cercato di parlare di spiegare ai cittadini i rischi che correvano abbiamo cercato di denunciare sul fatto che le istituzioni che pure avrebbero potuto applicare le norme per la bonifica non facevano niente nel 2013 abbiamo fatto un convegno dove avete visto prima c'erano sia Paolo Castaio di Medicina Democratica che sono venuti al convegno sono stati presenti che ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato molto in questa battaglia e sono venuti anche a fare il sopralluogo in quella giornata in giusa dove si vedeva la pioggia più che loro per darci una mano e abbiamo fatto dei filmati con loro in modo da poter fare avere la testimonianza di persone che fossero riconosciute medici di medicina educativa e anche altre persone ci hanno aiutato con questi filmati distribuiti su Youtube per sostenere questa battaglia e far capire qual era il problema visto che mai non riuscivamo a smuovere in nessun modo le altre ci siamo inventati tutte le altre forme di pressione che potevano inventarci abbiamo fatto interventi in consiglio comunale abbiamo fatto appelli agli amministratori erano invertite le slide sì abbiamo utilizzato tutti i social che potevamo utilizzare da Youtube a Whatsapp alle email ai giornali abbiamo utilizzato tutto quello che potevamo utilizzare per far sapere quali erano le nostre attività abbiamo cercato di dare informazioni sugli sgravi fiscali sia statali che comunali per i lavori di bonifica abbiamo dato informazioni sui contributi stanziati nel 2016 da Minail che erano pari a ben 65% della spesa che le aziende agricole avrebbero sostenute per bonificare da amianto le loro proprietà e visto che non scusa riusciti ad ottenere risultati né l'intervento del comune né della ASL né dei giudici perché noi abbiamo fatto varie denunce al tribunale di Salerno e quindi abbiamo continuato abbiamo fatto queste campagne vai avanti abbiamo fatto appenni agli amministratori di condominio perché la legge adesso crede che siano loro responsabili per questo possono essere loro denunciati poi vi dirò che sono stati denunciati e abbiamo fatto volantinaggio quartiere per quartiere strada per strada palazzo per palazzo in tutte le pucche di ogni palazzo per rinformare i rischi appenni amministratori di condominio e consiglieri comunali dei terrestri di cui parlavo prima sia la medicina democratica che la parla del quartiere Santa Cecilia questo quartiere dove c'era il Zapof e abbiamo cercato di contattare anche l'ordine dei chimici e dei biologi perché il problema dove sta anche se abbiamo messo in moto delle cose il problema sta sui tecnici i tecnici che rilasciano le certificazioni facili che semplicemente danno un pezzo di carta con cui i proprietari e gli amministratori di condominio possono dire anche se questi tecnici sono stati là per andare nelle interventure e nessuno si è mai curato di fare una intenzione stanno bene è tutto a posto e quindi possono restare là ancora oltre 40 anni fino a che visto che noi conosciamo delle ditte abbiamo fatto una provocazione mia quando i detti in Germania di Orlando questo sui ultimi polo 11 via su Stati Uniti d'America via Leonardo da Vinci ma li avete segnalati con me? beh sì li abbiamo segnalati con gli amici togliamoci la mia dalla testa ma una luna con foto e indirizzo abbiamo cercato di segnalare tutti possibilmente specialmente io che li ho a pochissima distanza ovviamente guardate a quelli come sono malgonici rotture muschi completamente usurati sicuro non sono stati mai trattati però non è vero che possa essere un rischio per la salute assolutamente abbiamo paura ed è per questo che ci siamo attivati perché appunto sappiamo che proprio quando sono rotti con muschio e hanno lezioni in silubini come questi sono pericolose da togliere e li abbiamo per questo segnalati e non avete pensato di chiedere riscritto a con noi di conoscere lo stato di questi denti soprattutto di questo appunto come dicevo con altri del quartiere abbiamo filmato e abbiamo proprio chiesto per iscritto al comune e chi ha risposto? il comune ha risposto che i proprietari hanno mandato a tenizia e forse non mi ha chiesto poi ho anche su questo tetto che è presente a pochi metri dall'unione dal comune e chi ha detto questo tecnico? tutta al posto tutta al posto non è tutta al posto al meglio a te tutta al posto se che avanti non è tutta al posto i filmati di questo tipo ne abbiamo fatto più di uno in varie zone hanno smosso le acque hanno messo in ridicolo questo tecnico e siamo riusciti in qualche modo ad ottenere qualcosa che cosa abbiamo ottenuto? abbiamo ottenuto anche grazie alla collaborazione di uno di noi che si è fatto il corso di ispettore ambientale come ispettore ambientale volontario da una mano all'ufficio ambiente del comune siamo riusciti a parer attirare uno sportello amianto del comune che è anche in linea è ovvio è solo in embrione però almeno siamo riusciti da qua si può partire i cittadini possono ancora spingere per migliorare questo servizio lo sportello amianto in linea ha messo la mappatura sul sito del comune la mappatura degli immobili già verificati dove c'è amianto ha messo in linea le ordinanze di bonifica da effettuare e in quelli dove invece c'è la valutazione tecnica se d'altra parte abbiamo basta toccare il palloncino per avere le informazioni si vede dove è la strada e se c'è un'inconcello di manza anche questa dovrebbe essere aggiornata non è aggiornata normalmente però è un punto di partenza l'altra cosa che abbiamo intendo l'asilo non ci ha voluto ascoltare la legge perché il registro amianto si è tenuto dai dipartimenti di prevenzione non l'ha voluto attivare il dipartimento di prevenzione ma l'ha attivato il comune e quindi siamo riusciti ad ottenerlo il registro amianto della nostra città fatto dal comune e sempre sul proposto siamo riusciti ad ottenere una spandardizzazione del procedimento quindi è tutto per fare in modo che si mettesse qualcosa su carta e che si seguisse sempre lo stesso interno ogni volta che c'è la segnalazione di un nuovo immobile dove c'è la presenza di amianto si attiva tutta quella procedura che vediamo e praticamente la cosa importante che siamo riusciti ad ottenere è che ci sia la verifica periodica ogni volta che scade la certificazione presentata dal tecnico il comune verifica che ci sia o la bonifica o la nuova certificazione nel caso in cui si possa avere una nuova certificazione e che si attiva fino all'ordinanza o nel caso in cui continuano a essere terminati impietti o i proprietari o gli amministratori che un dominio si manda la segnalazione all'autorità giudizia quindi vengono denunciati penalmente che siamo riusciti ad ottenere quindi oltre alla bonifica di questa ex alpezzurro che sta accendendo nella città e di quest'avvio il procedimento per la ex alpezzurro a Santa Cecilia sono stati rimossi negli ultimi due anni circa 40 tempi altri sono in via di essere definiti bonificati perché si aspetta fino a che non tornano i formulari e ci dicano che la mia è stata smantita correttamente in il cielo e il cielo e il cielo e quindi ci stanno varie rimozioni ancora in fine ci stanno ordinanze di bonifica e ordinanze che si stanno ancora facendo e ci stanno parecchi condominio amministratori di condominio rinviati alla procura della repubblica questi sono un po' di esempi di tetti rimossi come erano prima e come sono adesso anche il comune teniva tutti i pluviani in internet è stato purificato il comune altri tetti quindi siamo arrivati ad oltre 40 se da la mano questo è il tetto della signora che vedevamo prima nel piccolo filmato e adesso il problema qual è come notava il dottore Loria è vero che si fanno queste coniglie però ancora non sono rispettate le norme i lavoratori che in genere fanno queste rimossioni non sono tutte case qua stiamo ad altezze molto grandi ma non si vedono cavi di angolaggio per esempio né si seguono delle procedure corrette quando fanno una rimozione bisognerebbe avvisare i condomini dei palazzi intorno perché dovrebbero prendere delle proprie azioni tenere i balconi chiusi non stendere i pavini oppure buttare gli stracci con cui lavano i pavimenti dei balconi quando i lavori sono finiti invece tutto questo non ha bene e su questo dovremo ancora lavorare come comitato però nonostante tutto questo siamo sicuri che insieme si può fare in modo che Ecoli diventi una città libera avvani cosa portiamo come considerazione nostra per questa piccola esperienza che abbiamo riportato qui a tutti i mani di voi innanzitutto che problemi della salute dell'ambiente dei diritti non possono essere lasciati solo in mani che non si va da nessuna parte se non c'è la partecipazione attiva dei cittadini perché i cittadini possono svolgere attività di vigilanza e di pungolo per le istituzioni l'altra cosa che abbiamo imparato in questi anni di attività è che è importante fare l'idea noi siamo un piccolissimo gruppo e come noi penso che ci sono tanti altri gruppi che lavorano sui territori ma sono molto piccoli bisogna collegarsi perché si possono noi in tante cose le abbiamo viste fatte da altri per cui le possono replicare sui territori delle esperienze positive fatte altrove si deve lavorare in sinergia perché? perché si possono mettere in comune progetti e risorse proprio perché siamo piccoli siamo pochi e il potenziale la capacità di incidere a noi è servita tanto la mano che ci hanno dato ci ha dato medicina democratica per esempio e abbiamo cercato di metterci in contatto con altri gruppi che sul territorio si occupano appunto di battaglie sulla salute sull'ambiente e sui diritti nello specifico la mano l'abbiamo avuta da medicina democratica e ci siamo collegati prima all'AEA poi all'AICA che è l'associazione italiana contro l'amianto di Savigliano provincia di Cuneo e oggi il comitato il nostro piccolo comitato è affiliato nel senso che tutti noi ci siamo anche iscritti a questa associazione quindi abbiamo cercato di fare rete con altri gli aiutati e gli aiutati a aiutare altri noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza i nostri materiali che abbiamo prodotto in questi anni a disposizione di chiunque voglia replicare una battaglia contro l'amianto nelle proprie città perché si può fare ci vuole lavoro ma se ci entriamo insieme questo si può tenere rispetto delle normative che pure ci stanno insieme dicevamo come convulsione di questo piccolo intervento si può migliorare la qualità dell'ambiente e la qualità della vita delle nostre comunità vabbè adesso ci sarebbe non so ma meno fast qua c'è una prevalenza più libera del pavimento è molto evidente che le donne delle battaglie da Vicenza se no vuoi dire è tutto il 21 e poi c'è dentro a me sarebbe piaciuto un essere però visto che purtroppo l'Italia sembra un gabinetto siamo qui tutti quanti a raccontarci le peggiori schifze che ci toccano Vicenza Vicenza così Vicenza la controlla con l'area di Vicenza che poi è verità è veneto perché l'area colpita sono tre province e l'area colpita viene toccata da perfluoro di chimici i cosiddetti FAS P-F-A-S i FAS sono stati prodotti da una grossa azienda chimica che fornisce i suoi prodotti a moltissimi tipi di lavorazioni chimiche di utilizzo comune e di utilizzo farmaceutico è considerato una cosa importante i vestiti i farmaci le pentole con i rivestimenti antiaderenti e adesso non saprei neanche cos'altro perché dovunque guardo comunque io vedo soltanto FAS ecco il nostro problema qual è? questa azienda ha versato i suoi scarti per 40 anni in una falda acquifera dalla quale è stata compata acqua per 40 anni negli acquedotti che hanno servito 350.000 persone sicuramente e pare forse anche 800.000 che 800.000 persone siano coinvolte da questa presenza grande grandissima presenza di FAS un anno fa noi genitori io sono una mamma non sono nient'altro che una mamma noi genitori ci siamo ci siamo trovati così sgomenti con questi pezzi di carta in mano dove era scritto tuo figlio ha X FAS quanto? 100, 200, 300 600, 800 1.400 di fronte a tutto questo abbiamo detto ma aspetta cos'è questa cosa? ditecelo che cos'è questa cosa? spiegateci hanno tuo figlio il colesterolo perché gli dai le patatine fritte ha tuo figlio il battito cardiaco perché deve fare di più ginnastica abbiamo cominciato a ingerare mio figlio mia figlia non è cresciuta abbastanza perché ha problemi di tiroide sì perché tu non hai fatto qualcosa in realtà i FAS sono interferenti endocrini vanno a influire su tutto ma noi genitori sappiamo tutto quello che c'è da sapere perché i medici ai quali ci siamo involti e qualsiasi tipo di esperto in qualsiasi settore ha dato un grandissimo contributo e abbiamo potuto chiarirci dei idee FAS sono la più grande schifosa devastazione che esiste sulla faccia della terra è come infilarsi dentro l'enfonia e farsi infogare perché ce li abbiamo noi madri e li passiamo ai nostri figli i nostri figli crescono li allettiamo perché ci pare di dargli Dio sa cosa invece li diamo ancora FAS i nostri bambini stanno male è il dottore che non ha capito niente invece c'è qualcosa che non funziona siamo noi che non sappiamo tirare sui figli invece è tutta un'altra cosa c'è un inquinamento di Dio ci sono queste FAS della scarogna che ci intaccano piano 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 e questa è un po' l'introduzione l'introduzione così di getto dopo aver sentito tutte le vostre testimonianze che in verità fanno veramente pensare dove stiamo andando ecco è un cello sì la nostra preoccupazione più grande è quella di restare lì e di non vedere risolto il problema ci hanno fatto delle promesse ci hanno la procura sta indagando tutti quelli che vogliono che possano stanno facendo la loro parte noi mamma vogliamo soltanto acqua pulita speriamo che ci che ci diano questi collegamenti con l'acquedotto nuovo nuovo per virgolette e speriamo che l'acqua venga decontaminata in qualche modo ci venga fornita sappiamo però con certezza che l'acquedotto che sta arrivando che stanno perfezionando è già in costruzione e ha un po' abbandonato da 14 anni da 15 anni sappiamo che le fonti dalle quali sarà presa il prossimo acqua non sono fonti certe sappiamo che ci sarà una forte carenza di acqua e che sappiamo anche che pagheremo e continueremo a pagare le cifre esorbitanti fuori da ogni concezione umana tutti i repuratori che sono già in atto e sono tanti sono costosissimi e tutti quelli che verranno che non avremo mai più acqua pulita perché la nostra falda è la più grande è grandissima secondo in Europa la nostra meravigliosa incredibile falda è stata irrimediabilmente contaminata e quello che c'è dentro ci metterà centinaia di anni per cominciare a ricavere perché il FAS è una cosa chimica è a base di carbonio e ha delle caratteristiche per cui è fatto e per resistere nel tempo non è fatto per decadere come altri prodotti nocini ecco sappiamo anche e lo vediamo già adesso che stiamo pagando sulla nostra pelle e su quella che verrà che pagheremo con un prezzo altissimo il lato umano di questo inquinamento di questo inquinamento perché il FAS è un interferente endocrino vi risparmio tutti i tumori tutti i cancri tutte le patologie che possono venire agli adulti che per carità una persona di 60 anni può anche dire che si ha un resto di 60 anni i prossimi di FAS il cancro ok vabbè è una stimonzata scusate però mentre invece la nascita di bambini compromessi quelli che riescono a nascere compromessi il numero sempre più alto di bambini che nascono compromessi dall'inquinamento è una realtà che si sconvolge l'ospedale di Vicenza ha creato un reparto di neumatologia specifico per questi bambini io li ho chiamati i bambini spenti li chiamateli come volete io prego solo Dio che piuttosto di darmi un nipote così non lo l'haga affatto e non è la mia soltanto la mia preghiera la preghiera che è diffusa ogni umano prego Dio per qualcosa ma alla fine la colpa è soltanto nostra perché abbiamo creduto nei nostri governanti abbiamo creduto in ogni parola che è stata detta e finché non ci abbiamo sbattuto il naso così terrificantemente non ci siamo mossi noi ci stiamo muovendo da un anno e abbiamo costituito un gruppo unito con tutte le associazioni ambientaliste per cui i medici i rappresentanti di medicina democratica per cui i medici dell'ISDE ed ogni altra forma locale e nazionale di ambientalismo o di ambientalisti cioè di persone che credono nella possibilità di migliorare la situazione non sono personalmente convinta che questa situazione possa risolversi brevemente perché ogni possibile ricerca e indagine è ancora in fase di crescita di sviluppo qualcosa c'è stato in Italia la nostra regione non accetta le ricerche che vengono dal resto del mondo il resto del mondo ha detto ah ma guarda quella roba gli fa male non deve esserci è vero che il Veneto ha abbassato i limiti ma per disintossicarci l'hanno dimostrato i nostri medici i nostri medici l'hanno dimostrato hanno dimostrato che tenendo in dieta cioè in assenza totale di fase si abbassa notevolmente la quantità di fase nel sangue padale ho detto che si abbassa non che si elimina ho detto soltanto che si abbassa il fase si deposita si deposita in ogni parte del corpo tutti gli organi qualsiasi cosa viene compromessa viene intaccata loro si fermano lì e restano può diminuire un po' ma non vanno via la prevenzione è non esporsi quello che possiamo fare adesso come cura è non infilarne più in bocca non permettere più che i nostri figli assorbano questo prodotto e il problema qual è? il problema è che viene dall'acqua degli acquirotti c'è nell'acqua dei fiumi c'è nell'acqua sotterranea c'è nel cibo perché nel 2014 un po' così lo sapendo sono state fatte delle indagini dell'istituto di sanità nazionale perciò sono indagini che non possiamo andare a mettere in discussione e hanno trovato su ogni cibo analizzato la presenza una certa quantità di farsa dunque ci sono tutto il resto sono chiacchiere e abbiamo anche l'aria sporca i farsa sono dovunque non è che tu li butti dentro all'inceneritore e questi svaniscono no il farsa è fatto per resistere l'inceneritore smolecolizza e poi il farsa vola va in alto e ricade ci sono studi degli altri stati esteri posso parlarvi degli studi in Olanda in Olanda hanno anche un istituto specifico che indaga l'aria ok ecco posso assicurarvi che il Vietnam e la Corea che a noi sembrano così lontani loro hanno dei grandissimi studi i nostri studenti i nostri figli che fanno le loro tesi di laurea adesso su biologia in economia eccetera loro vanno a leggersi vanno a cercare proprio sugli studi fatti all'estero perfino negli estremi paesi dove manca le sogneresti che potrebbe esserci la Cina è avanzatissima nello studio di questo problema tanto che la Cina per esempio che cosa ha fatto ha fatto la banca del seme ecco non so quanto posso andare avanti su questo argomento però vi assicuro che è dolorosissimo per me parlarne io ho due figli maschi e due figli femmine ora io ho quattro maschi per caso due figli e due figli che ragazzi cioè morosi noi li chiamiamo morosi morosi sono figli sono i fidanzati delle figlie dunque quando in casa hai quattro maschietti giovani cosa fai? gli dici vai a vedere quanti fassi hai nel sangue fatti le analisi ma il pensiero è sempre quello in un paese vicino al mio c'è stato l'incremento del 80% di cancro al testicolo è orribile pensare che un ragazzo intorno ai 20 anni che un uomo giovane intorno ai 20 anni che ha tutta una vita ma cosa come i 20 anni i figli di 20 anni anche a 30 ma anche a 40 un uomo così giovane deve stare integro invece purtroppo il cancro al testicolo toglie l'uomo così si speranza un uomo non vive più che uomo è? il cancro al testicolo è desbastante noi siamo pieni di preoccupazione e siamo pieni di questo problema non soltanto abbiamo i bambini i maschiettini quelli piccoli abbiamo i bambini maschi già intaccati da cancro al testicolo ci sono dei casi di bambini di 3 anni che è devastante tu lo guardi quel piccolo uomo e sai che per quanto grande diventerà però dai diciamocelo non sarà mai un uomo e questa è una cosa notribile è la più brutta che possa esserci al mondo anche se noi adesso cerchiamo di correre dei pazzi cerchiamo un cibo più pulito cerchiamo il biologico quello che viene da un'altra regione però ci siamo detti come l'altra regione quando cioè ecco adesso io mi chiedo che cosa possiamo dargli da non dare a questi ragazzi per dare loro una chance in più ecco anche se noi ricordiamo ad ogni possibile riparo quello che è già stato intaccato e quello che sarà intaccato cioè il nostro futuro primo i prossimi 15-20 anni è già determinato e i prossimi 15-20 anni non saranno belli saranno pieni di dolore e pieni di lacrime e pieni di disperazione e ci sarà sì ci saranno tanti bambini normali ci saranno tanti bambini però che porteranno addosso tutti questi problemi già prima di nascere già da feti ci stiamo muovendo domenica faremo una grande una grande manifestazione tutti insieme come organizzazioni a Triscino davanti il paese di Triscino proprio davanti alla fabbrica della maledizione a questa devastazione proprio per protestare contro 40 anni di sporcizia di silenzio di omertà lasciatemi la chiamare mafia perché insomma questi tipi di silenzi sono mafiosi basta non vi dico altro perché penso che sia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti